Come appunto ha già anticipato il direttore, avete visto tutti il programma, è su un particolare tipo di industrie, quelle che vengono chiamate industrie creative, che come vedremo sono industrie che contengono al loro interno tante e molto diverse attività. Il mio ruolo qui adesso è quello di darvi dei primi risultati, diciamo una prima sintesi dei risultati della ricerca sulla quale poi dopo si svilupperà la discussione con appunto i protagonisti, quelli che noi abbiamo sentito durante le nostre interviste, durante il nostro lavoro di campo. Io parlerò in italiano, le slide sono in inglese, così per pari dignità per entrambi i tipi di partecipanti e mi soffermerò su quattro punti in questa mia presentazione. La prima sono le caratteristiche della ricerca, le sue principali ipotesi, le ipotesi di partenza. Secondo punto, le caratteristiche dei settori creativi in Europa, cioè cosa sono, quali sono i lavoratori che operano in questi settori, qual è la dinamica in termini di performance economica e così via. Come terzo punto mi soffermerò sui principali risultati della ricerca, quello che emerge con forza dalla nostra attività di ricerca e infine le conclusioni, cercherò di trarre alcune implicazioni in termini di relazioni industriali, perché il grosso del progetto si concentra sulla rappresentanza degli interessi all'interno di questi settori. Per quanto riguarda la ricerca la prima cosa da dire è perché abbiamo deciso di concentrarci, è la nostra prima attività di ricerca su questo settore, cioè sui settori creativi, sul settore creativo, perché abbiamo deciso di concentrarci su questo tipo di settore? Anzitutto perché, come vedremo dai dati, è uno dei pochi settori che è cresciuto in Europa anche dopo la crisi. I dati dal 2008 al 2014 mostrano che anche nei paesi come il nostro, che incontravano delle importanti difficoltà dal punto di vista delle dinamiche del mercato del lavoro, le industrie creative continuano, mentre gli altri settori perdono addetti, continuano a creare occupazione. Quindi è un settore che cresce sia in termini di occupazione che di produzione di ricchezza. Secondo punto importante, nonostante sia un settore in crescita, è un settore che tradizionalmente è piuttosto trascurato dalla letteratura accademica sulle relazioni industriali. Quindi non c'è moltissimo, un settore interessante, un settore in crescita, molti lavoratori giovani, ma non ci sono molti studi di relazioni industriali su questo. E oltretutto è un settore invece dove dal punto di vista delle relazioni industriali, come vedremo con appunto le testimonianze dei nostri ospiti, di cose interessanti se ne fanno un bel po'. Quindi c'era molto da vedere e molto di poco esplorato. Il terzo punto, che a noi interessava particolarmente, era legato al fatto che c'è una retorica in una parte della letteratura che tende a sottolineare che questo settore forte e in crescita è un settore che è rappresentato, caratterizzato, dalla presenza di lavoratori forti nel mercato del lavoro. Quindi che non hanno problemi, non incontrano difficoltà, sono lavoratori con alti salari, alta scolarizzazione e così via. Noi in realtà non eravamo convinti di quello che sostiene questa retorica, ma eravamo convinti del fatto che questi lavoratori giocassero un ruolo estremamente importante per l'economia, quindi un ruolo strategico, ma che al contempo fossero anche in molti casi in una situazione di vulnerabilità. Vulnerabilità in termini appunto di interessi, condizioni di lavoro, salari e così via. Quindi la nostra idea è stata proprio quella di fare un progetto sulle relazioni industriali nei settori creativi guardando i lavoratori che sono, come vedete appunto dal titolo della ricerca, strategici ma al contempo vulnerabili. Abbiamo fatto questa proposta di ricerca alla Commissione Europea, alla Direzione Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione. La ricerca è stata selezionata, quindi abbiamo vinto il bando, siamo stati finanziati e abbiamo iniziato la ricerca due anni fa e adesso siamo nelle fasi conclusive, conclusive dell'attività di ricerca, ma come vedrete oggi siamo ancora molto interessati alla discussione di questi primi risultati con i diretti interessati. Quindi 24 mesi di attività di ricerca. Noi siamo partiti volendo guardare alle industrie creative in generale, cioè all'insieme delle industrie creative, ma come vedremo, per le ragioni che vi esporrò tra poco, in realtà ci siamo soffermati poi alla fine per necessità su due sottosettori delle industrie creative. Uno che è un settore storico tradizionale, che è quello della grafica, il design grafico, cioè un settore nel quale le relazioni industriali da sempre hanno giocato un ruolo particolarmente importante, quindi un vecchio settore, e poi dopo ci siamo concentrati su un settore più innovativo, meno tradizionale, diciamo, o più recente come nascita, che è quello della game industry, cioè la produzione di giochi, videogiochi e così via. Queste attività molto spesso si concentrano in realtà urbane e metropolitane e per quello abbiamo preso in considerazione nei tre paesi che sono parte della ricerca, ovvero Italia, Olanda e Danimarca, abbiamo preso in considerazione quattro città dove c'erano cluster importanti di queste attività. Le città sono Milano, per l'Italia, Utrecht e Amsterdam, per il caso olandese, e l'area di Copenhagen, per il caso danese. Questo è il gruppo di ricerca per l'Università di Amsterdam, Mayas, Vike Bin e Martin Koene, per il FAOS, l'Università di Copenhagen, Trine Larsen, Patricia Larsen e Michel Myland, e per l'Università di Firenze, Andrea Bellini, io, Lisa Dorigatti, Alberto Gerardini e Cecilia Manzo. Quindi questa è un po' la struttura della nostra ricerca. Il fuoco della ricerca era appunto quello di guardare al rapporto tra vulnerabilità da un lato e azione degli attori delle relazioni industriali dall'altro. Quindi cosa viene fatto da parti sociali tradizionali, sindacati e associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, ma vedremo poi, vedremo che ci sono molti nuovi attori che stanno giocando un ruolo molto innovativo, anche interessante, cosa fanno gli attori collettivi nel rappresentare gli interessi e come questo ha un impatto sulla vulnerabilità. Ed eravamo interessati a vedere queste dinamiche in una prospettiva appunto comparata, studiando dei paesi, Danimarca, Olanda e Italia, che dal punto di vista della tradizione delle relazioni industriali, hanno delle tradizioni molto diverse. Quindi volevamo vedere se tra paesi diversi ci sono delle similitudini o delle differenze. Tre paesi però dove le relazioni industriali sono ancora oggi molto forti. Questo è un punto su cui ritornerò più avanti. Siamo partiti con due ipotesi principali, che purtroppo, come succede spesso nelle scienze sociali, si sono rilevate entrambe sbagliate. Questa è una cosa su cui chi fa questo lavoro deve essere pronto ad affrontare. E appunto avevano a che fare col fatto che pensavamo di trovare molti lavoratori vulnerabili e così è stato. Su questo per fortuna, in realtà non per fortuna fossero stati meno, sarebbe meglio, ma insomma per le finalità della ricerca avevamo individuato uno dei punti critici. E l'ipotesi erano appunto che in presenza di relazioni industriali forti, dove la contrattazione collettiva gioca un ruolo rilevante, dove ci sono sindacati fortemente rappresentativi, dove ci sono associazioni di rappresentanza degli interessi dei datori di lavoro molto rappresentativi, questi settori creativi sarebbero stati fortemente regolati e ci sarebbe stata una bassa vulnerabilità dei lavoratori. Oppure ci aspettavamo di trovare la situazione opposta, nel quale ci sono relazioni industriali deboli, quindi sindacati assenti, associazioni datoriali molto deboli, e questo avrebbe portato a un settore con assenza di regolazione, con forte ruolo del mercato e con notevole vulnerabilità dei lavoratori, notevole e crescente. Come vi ho detto, entrambe, lo vedremo appunto durante la presentazione, entrambe queste ipotesi però si sono rivelate sbagliate, perché quello che abbiamo trovato non sta né nell'una casella e neanche nell'altra. Prima però di arrivare al punto centrale della ricerca, volevo spendere due parole sulle industrie creative, quindi vediamo di che cosa stiamo parlando, le industrie creative in Europa. Le industrie creative sono prende i paesi dell'Unione Europea, diciamo la definizione che è usata dalla Commissione, ci porta a individuare un insieme di lavoratori, che è un insieme di circa 6,5 milioni di persone, che sono occupate in questi settori, che contribuiscono circa al 2,6, 2,5, 2,6% del prodotto interno lordo europeo. Per quanto riguarda la crescita, quello che vi dicevo prima, l'aspetto interessante è che dal 2008, quindi da subito dopo la crisi economica, fino al 2014, i lavoratori delle industrie creative passano da 5,3 milioni in Europa a 6,3 milioni. Cioè c'è una crescita occupazionale dopo la crisi di oltre il 17%. E quello che è interessante è che tutti i sottosettori delle industrie creative crescono, cioè qualsiasi sottosettore voi prendiate ha sperimentato una crescita in questo periodo, anche se con ritmi diversi. Uno dei settori che noi abbiamo preso in considerazione, quello dei designer, è cresciuto di oltre il 100% degli addetti. Quindi ha raddoppiato i propri addetti a livello europeo, mentre ci sono settori, come per esempio questo che vedete richiamato qua, dei lavoratori nei musei, nelle biblioteche, nelle archivi e in altre attività culturali, che sono cresciuti molto meno, perché sono cresciuti dell'1,4%, che però in un periodo come quello della crisi economica non è un risultato trascurabile. I paesi dove sono cresciuti di più sono Regno Unito, Francia e Germania, ma altro aspetto interessante, queste attività sono cresciute ovunque, quindi anche nei paesi, come i paesi dell'Europa Mediterranea, che sono i paesi nei quali l'impatto della crisi è stato più forte, le attività del settore creativo sono attività che crescono. Quindi un settore, diciamo, rilevante per l'economia. Che tipo di lavoratori ci sono? Qua i numeri in grassetto evidenziati sono quelli che mostrano la specializzazione, diciamo, in termini di presenza degli addetti. Come vedete, sono settori dove c'è una forte quota di lavoratori giovani, diciamo, sia nella fascia 15-29, ma soprattutto nella fascia 30-39. Quindi una definizione di giovane un po' all'italiana, dove continuiamo a essere giovani molto a lungo. Però, come vedete, non ci sono soltanto lavoratori giovani. E questo è molto interessante. Ci sono anche lavoratori che rientrano nella fascia dei cosiddetti lavoratori adulti, dai 50-59 anni, e anche dai 60-64. Quindi, sostanzialmente, è un settore dove c'è una maggiore presenza della forza lavoro giovane, ma dove ci sono anche lavoratori che giovani non sono più. E questo è rilevante, perché quando questi lavoratori che non sono più giovani entrano in condizioni, in una situazione di vulnerabilità, ne escono con maggiore difficoltà. È un settore nel quale l'occupazione viene, diciamo così, piuttosto equamente distribuita tra uomini e donne, cosa che non succede in altri settori e cosa che succede ancora meno nel nostro Paese. Per esempio, nel nostro caso nazionale, ci sono più donne occupate nel settore delle industrie creative rispetto agli uomini. Lo stesso avviene in Danimarca, non avviene in Olanda. Quindi, per una volta, una volta, un tipo di dato, questo è un dato che ci conforta molto noi italiani, rispetto ai colleghi olandesi, da noi sono più presenti le donne in questo settore rispetto appunto a quel Paese. Però, come vedete, in realtà sono piuttosto ugualmente distribuiti. Che tipo di scolarizzazione hanno? Una scolarizzazione molto elevata. In entrambi, in tutti e tre i Paesi, qualsiasi tipo di settore creativo voi prendiate in considerazione. Queste sono l'istruzione, la classificazione ISCE, dell'istruzione terziaria, quindi università, dottorato di ricerca, eccetera. Una parte molto importante di questi lavoratori è fortemente a una elevata scolarizzazione. Però, come vedremo, aspetto molto importante, non tutto quello che serve in questo settore lo si impara nelle scuole e nell'università. Ma molto lo si impara anche al di fuori di queste istituzioni. Lo vedremo meglio più avanti. Quindi, questo, diciamo, era quello che noi abbiamo trovato appena abbiamo approcciato dal punto di vista statistico queste attività e subito però è emerso un problema. Ovvero che le industrie creative, quelle che vengono definite dalla Commissione Industrie Creative, sono industrie che hanno una elevatissima eterogeneità al proprio interno. Eterogeneità vuol dire che dentro ci trovate di tutto. Ci trovate dal produttore di videogiochi che lavora nella piccolissima impresa, ci trovate il lavoratore nel museo, ci trovate il lavoratore nella biblioteca, ci trovate il giornalista. Quindi troviamo all'interno di questo macro settore dei gruppi di lavoratori, dei tipi di imprese, degli interessi dei lavoratori, così diversi che era difficile per noi fare una ricerca sul settore creativo in generale. Perché il settore creativo in generale, come vi dicevo, ha tantissime diversità interne. Per questa ragione abbiamo scelto di guardare alle industrie creative partendo da due suoi sottosettori, che sono appunto quei sottosettori che vi avevo richiamato prima, è il settore della grafica e il settore del gaming. Uno è un settore vecchio con una grande tradizione, come dicevamo prima, e uno è un settore nuovo, invece, con una tradizione più recente, anche proprio in termini di relazioni industriali. Quindi, intrapresa questa strada, che cosa è emerso? Io vi presenterò i risultati della ricerca concentrandomi prevalentemente su tre, diciamo, capitoli, su tre aspetti principali. Il primo è che cosa è emerso dal punto di vista della organizzazione produttiva dei due settori, cioè come le imprese sono organizzate, come il lavoro è organizzato in questi due settori. Naturalmente, vi farò degli esempi per la grafica e il gaming, ma diciamo, cercherò di evidenziare gli aspetti comuni, perché delle differenze, ovviamente, tra i due settori ci sono. In secondo luogo, mi soffermerò sulle condizioni di lavoro e in terzo luogo, alla fine, sulla parte più rilevante, più rilevante per noi, naturalmente, per i contenuti della ricerca, che era quella legata alle relazioni industriali e alla rappresentanza degli interessi in questi settori. Fatto questo, tirerò delle brevi implicazioni per quanto riguarda l'arena delle relazioni industriali e lascerò la parola alla sezione successiva che, invece, appunto, proprio sull'azione di questi attori si concentra. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione produttiva, la prima cosa che è importante è che in quasi tutti i settori delle industrie creative e nei nostri due in particolare è emersa la rilevanza dell'importanza del cambiamento tecnologico che ha avuto sul modo di organizzare la produzione di questi due settori un impatto estremamente rilevante. Per quanto riguarda la grafica ha modificato radicalmente il modo in cui quel settore opera. Per esempio, se oggi, se 15 anni fa volevate farvi un biglietto da visita, dovevate rivolgervi a una tipografia che vi faceva i biglietti portandogli la vostra idea, oggi uno con gli strumenti che ci sono diciamo può anche volendo farlo a casa. Quindi, per quanto riguarda la grafica, la possibilità, i cambiamenti tecnologici hanno introdotto molte possibilità di poter provare a provvedere autonomamente ad alcuni tipi di queste cose. Il secondo settore, quello del gaming, è ovviamente sensibile ai cambiamenti tecnologici perché quello è il settore nel quale è stato specificatamente creato dai cambiamenti tecnologici che sono rilevanti e, secondo aspetto importante, oltre ad essere estremamente rilevanti, cambiano costantemente. Questo è molto importante per noi. Cioè, ci sono cambiamenti costanti nei modi in cui la tecnologia influenza questi due tipi di lavori. Altro aspetto rilevante, una costante riduzione di quelli che gli economisti chiamano costi di ingresso, ovvero i costi di, per esempio, creazione di un'impresa all'interno di un settore che prima erano piuttosto elevati e poi pian piano sono divenuti sempre meno elevati. Per esempio, il gaming, la produzione di giochi, col passaggio dal gaming tradizionale all'online gaming, il costo per entrare in quel mercato si è abbassato molto. Lo stesso per le ragioni che vi dicevo prima è successo per quanto riguarda la grafica. Quindi, crescono e proliferano, possono proliferare le imprese in questi settori. Questo, in parte, l'abbassamento dei costi d'ingresso e le trasformazioni tecnologiche a cui facevo riferimento prima, ha portato a una sorta di svalutazione del lavoro. Quello che gli attori ci un po' raccontano, i lavoratori, quando li abbiamo intervistati, è che spesso i clienti non capiscono la quantità di lavoro che c'è dietro quello che loro fanno, l'importanza e le difficoltà e la necessità di lavoro specializzato per far questo. perché ritengono di poterlo farlo, di poter fare la stessa cosa a casa, quindi, come dire, questo, nell'individuazione delle tariffe porta purtroppo un gioco un po', può portare purtroppo un gioco un po' a ribasso. Quarta caratteristica importante, il lavoro in questi settori è un lavoro che è organizzato per progetti. Per progetti significa che si organizza tutto il lavoro intorno a un determinato prodotto con delle alleanze di attori, di lavoratori che sono alleanze temporanee attorno appunto a quel prodotto. Questo è molto importante, non avviene solo tra lavoratori e tra professionisti che iniziano a cooperare nel mercato del lavoro in generale, quindi tra diversi freelance che si mettono assieme per un progetto specifico, per realizzare un determinato logo o per realizzare un determinato gioco, ma avviene anche il lavoro per progetti all'interno delle imprese strutturate di grandi dimensioni. Quindi la dimensione di progetto è una dimensione che ha molto a che fare con questo tipo di settore. Ovviamente non solo con questo tipo di settore, noi siamo qua a parlare oggi dei risultati di un progetto di ricerca che quando facevamo l'attività di ricerca e comparavamo quello che i lavoratori nel gaming e nella grafica fanno con quello che noi facciamo quotidianamente trovevamo moltissime similarità. Moltissime, moltissime similarità. Ci sono quindi alleanze temporanee tra attori, tra attori economici finalizzate alla realizzazione di un progetto specifico. C'è una forte eterogeneità nell'organizzazione del lavoro che significa che all'interno del settore della grafica e all'interno del settore del gaming troviamo, io poi adesso vi faccio vedere un esempio sul gaming specifico, troviamo dei diversi modi di organizzare il lavoro e troviamo un sistema quasi duale con l'importanza di imprese di piccole dimensioni, una grande importanza di lavoro autonomo ma anche una grande importanza di imprese più strutturate, di imprese di grandi dimensioni per quanto riguarda il gaming oppure di alcuni pochi studi importanti per quanto riguarda la grafica. Questo vedete è un esempio sull'organizzazione produttiva nel settore del gaming qui ci sono diversi tipi di imprese ci sono le imprese che producono tutti i prodotti al loro interno ci sono imprese che invece lavorano per altre imprese poi ci sono imprese diciamo i tipi di prodotti che vengono fatti sono diversi perché ci sono i videogame tradizionali dove uno ha una cat come per esempio FIFA io ho un figlio espertissimo che mi ha dato una forte consulenza in questo tipo di cose dove c'è un rapporto che vede gli sviluppatori i publisher i distributori del gioco il commercio e infine i consumatori questa lunga catena si accorcia se si passa al mobile gaming cioè quindi il gaming per i dispositivi portatili dai telefoni tablet e così via dove ci sono gli sviluppatori i distributori e i consumatori finali nel online gaming quindi il gaming online appunto il rapporto è soltanto tra sviluppatori e consumatori e poi ci sono quelli che vengono definiti applied games che in Italia hanno dei tre paesi che noi abbiamo preso in considerazione un'importanza minore ma che sono molto importanti soprattutto nel caso nel caso olandese ma anche nel caso danese che si tratta di giochi applicati a qualcosa per esempio determinati giochi per le industrie culturali agganciare un gioco un'esperienza diciamo a un museo per esempio oppure nel settore della sanità per favorire pensate per esempio alle terapie per i bambini e il fatto che ci siano alcuni giochi che possono giocare un ruolo importante in questo senso naturalmente questi quattro tipi di attività nel gaming non vuol dire che ci sono quattro tipi di imprese che fanno questi quattro diversi tipi di prodotti ma sono quattro tipi di attività che spesso vengono fatti anche all'interno della stessa impresa quindi la stessa impresa fa da un lato applied games dall'altro lato fa mobile gaming e imprese e anche gaming tradizionale all'interno di queste imprese però si trovano come vi dicevo elevata eterogeneità all'interno di queste imprese si trovano diversi tipi di lavoratori ci sono i programmatori di software ci sono i game designer quindi designer del gioco specifico e ci sono artisti ed animatori riassumendo trovando tre categorie la vulnerabilità di questi tre tipi di attori non è la medesima perché ovviamente voi avete una forte vulnerabilità per gli artisti e gli animatori una minore vulnerabilità per i game designer ma comunque sempre alta e invece i programmatori di software che possono rigiocarsi più facilmente in altri settori che hanno una vulnerabilità minore questo per farvi vedere appunto che si tratta di un settore anche quello del gaming estremamente specifico estremamente anche piccolo dal punto di vista quantitativo dove però si fanno cose molto diverse tra loro e ci sono diversi tipi di lavoratori diverse esposizioni alla vulnerabilità questo per quanto riguarda l'organizzazione produttiva se uno dall'organizzazione produttiva si sposta alle condizioni di lavoro nota che in tutti e due questi settori e in tutti e tre i paesi c'è una forte presenza di quello che noi in italiano chiamiamo lavoro atipico che significa appunto lavoratori autonomi freelance forme contrattuali legate alla collaborazione quindi ci sono delle sono molto sviluppate delle formule contrattuali che soprattutto in Italia vengono associate a una forte vulnerabilità e una forte precarietà soprattutto in Italia ma non solo in Italia però a fianco a questi molto di più di quello che noi ci aspettavamo ci sono anche lavoratori che invece sono occupati in imprese maggiormente consolidate quindi in imprese più consolidate con rapporti di lavoro più stabili quindi troviamo anche in questo caso una situazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro un po' di dualismo il lavoro freelance molto spesso è associato a una forte dimensione di libertà e di autonomia e di soddisfazione nei contenuti del lavoro da parte degli intervistati però allo stesso tempo molto spesso non è tanto una scelta quanto una necessità necessità per l'incapacità di trovare un altro tipo di collocazione che è quella appunto del lavoro stabile è un lavoro per le condizioni a cui facevamo riferimento prima ovvero il fatto che c'è una forte rilevanza del lavoro a progetto è un lavoro dove il concetto di deadline gioca un ruolo estremamente rilevante e soprattutto le deadline strette è quello che in questi settori viene chiamato crunching ovvero il periodo in cui ci si avvicina alla scadenza che è spesso caratterizzato da una forte presenza di orari straordinari un lavoro insomma particolarmente intenso sono molto diffusi anche lavoratori che hanno dei lavori multipli i cosiddetti multi jobs e in questo caso ci sono diversi tipi di multi jobs ci sono lavoratori occupati in un'impresa per esempio nel gaming o in uno studio grafico che hanno anche i loro progetti personali quindi hanno il loro per esempio lavorano a un gioco tradizionale ma allo stesso tempo sviluppano autonomamente il loro gioco online ci sono lavoratori che lavorano per più imprese quindi come dire è difficile trovare il lavoratore che è coinvolto in un solo progetto ma generalmente questo tipo di lavoratori sono coinvolti in una pluralità di progetti quindi sono esposti a una pluralità di periodi di crunching sono esposti alle deadline per diciamo quasi costantemente sono settori quello della grafica e quello del gaming dove gioca un ruolo estremamente importante quello che viene definito come portfolio ovvero l'insieme diciamo certificabile di esperienze di lavori che sono stati svolti precedentemente quindi quello diciamo i progetti a cui avete partecipato e i progetti che vi portate dietro con la vostra con la vostra esperienza questo rende forti i lavoratori diciamo avere un buon portfolio rende i lavoratori più forti nel mercato del lavoro e questo fa sì per noi perché è importante per l'arena delle relazioni industriali perché fa sì che spesso dei lavoratori accettino un determinato tipo di lavoro non tanto per le condizioni diciamo così più più legate al salario alla retribuzione ma perché sono interessati ai contenuti di quel lavoro e sono interessati al tipo di impatto che quel lavoro ha sul loro portfolio quindi sono disposti a lavorare a condizioni di retribuzione anche più bassa pur di poter partecipare a quello specifico progetto perché o credono molto a quel progetto o perché ritengono che quel progetto per il loro portfolio sia particolarmente rilevante questo ci fa capire che per molti di questi lavoratori il contenuto del lavoro cioè gli specifici contenuti anche in termini di soddisfazione e realizzazione personale spesso sono altrettanto importanti della dimensione economica quindi non c'è sempre una valutazione accetto questo tipo di incarico perché mi porta questo tipo di vantaggio economico ma accetto questo tipo di incarico perché credo in quel progetto credo in quel team sono sicuro che la partecipazione a questo tipo di attività mi rafforzerà le mie caratteristiche sul mercato del lavoro quindi quanto credono in un progetto e contenuti e quanto ritengono che questo sia importante per il loro curriculum altro aspetto molto importante comune a tutti e due i settori spesso sono settori che hanno un forte nei quali i lavoratori hanno un fortissimo senso di appartenere a una comunità una comunità che però è una comunità molto particolare perché è una comunità professionale di quegli attori che fanno quel tipo di lavoro quindi c'è un fortissimo senso di appartenenza che vedremo influenza molto anche la rappresentanza degli interessi e c'è anche però una forte percezione di vulnerabilità che cambia un po' anche da paese a paese cioè quindi nei tre paesi che noi abbiamo preso in considerazione che cambia un po' per i due settori e che cambia anche per tipo di lavoratori come vi ho fatto vedere prima nell'esempio del gaming sono lavoratori che rispetto ad altri tipi di lavoratori hanno delle necessità dei bisogni molto specifici soprattutto hanno bisogno di servizi di determinati servizi hanno bisogno di consulenza legale hanno bisogno di training hanno bisogno di updating hanno bisogno di servizi che li aiutino a fare rete e networking con altri attori quindi quando parliamo con loro di interessi e di necessità molto spesso questi sono gli interessi che ci rappresentano e anche questo vedremo un impatto estremamente rilevante dal punto di vista dell'organizzazione e della rappresentanza degli interessi in termini di relazioni industriali spesso sono lavoratori che è difficile come dire quando lavorano all'interno di un'impresa è difficile capire esattamente si potrebbe dire da che parte del rapporto capitale lavoro stanno perché c'è spesso la sensazione che siano lavoratori che hanno le stesse necessità esprimono le stesse richieste dei datori di lavoro quindi c'è una fortissima comunanza c'è spesso il modo di dire che è molto italiano siamo nella stessa barca abbiamo lo stesso tipo di bisogni ed è interessante che in alcuni dei paesi che abbiamo preso in considerazione ci sono organizzazioni di rappresentanza degli interessi che non guardano solo ai lavoratori dipendenti o solo agli imprenditori ma che cercano di rappresentare tutti quelli che operano in quel settore infine le relazioni industriali che cosa è emerso per quanto riguarda le relazioni industriali sono emerse delle cose che noi le relazioni industriali tradizionali non diciamo sono emerse delle cose che noi in parte ci aspettavamo in parte no una prima cosa che emerge con forza sono i tassi di sindacalizzazione relativamente bassi in questi settori la Danimarca è il paese dove i tassi di sindacalizzazione in questi settori sono più alti ma se uno compara i tassi di sindacalizzazione in questi settori con i tassi di sindacalizzazione di altri settori sempre in Danimarca nota che la sindacalizzazione nei settori che noi abbiamo preso in considerazione è più bassa quindi dal punto di vista di membership le organizzazioni di rappresentanza degli interessi sindacati sono relativamente deboli lo stesso vale per le associazioni dei datori di lavoro quindi l'employer's association che sono anche in questo caso hanno più bassi tassi di iscrizione di altri settori e sono relativamente deboli c'è un basso peso della contrattazione collettiva quindi diciamo di una delle forme tradizionali di interazione tra gli attori però questo basso peso spesso viene compensato dal fatto che viene fatto qualcosa in altri settori che ricade sui lavoratori di questo settore per esempio il caso italiano da questo punto di vista è molto importante alcuni dei lavoratori nel settore del gaming nel nostro paese sono coperti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della metalmeccanica per estensione questo naturalmente per noi è interessante ma non vuol dire che la contrattazione collettiva di settore per il gaming è particolarmente rilevante perché quando i rappresentanti dei lavoratori delle imprese metalmeccaniche i rappresentanti dei datori di lavoro delle imprese nello stesso settore si siedono al tavolo della negoziazione e negoziano il contratto collettivo non hanno in mente di rappresentare i lavoratori non credo di rappresentare il lavoratore nelle imprese del gaming quindi è un'estensione una copertura per estensione perché la contrattazione specifica settoriale è piuttosto debole lo stesso vale per l'attività di dialogo sociale settoriale sottolineo settoriale che è debole in entrambi i settori quindi si trovano degli aspetti che mostrano la debolezza delle relazioni industriali ma ma per fortuna ci sono anche cose che abbiamo trovato che ci aspettavamo meno la prima cosa importante è che organizzazioni di rappresentanza degli interessi anche quelle che si possono definire come più tradizionali stanno facendo una grande insieme di azioni innovative per interessare l'interesse di questo per intercettare scusatemi l'interesse di questo tipo di lavoratori di questo io vi anticipo poco perché fanno parte di quello che discuteremo nelle due prossime sezioni così come ci sono nuovi attori che hanno delle caratteristiche nuovi attori intendo non gli attori tradizionali delle relazioni industriali spesso sono associazioni professionali e sono spesso associazioni che tengono dentro sia datori di lavoro che lavoratori che svolgono anche esse attività molto molto importante molto interessante diciamo una parte importante di questa sperimentazione sia degli attori tradizionali che dei nuovi attori verte sull'offerta di servizi quindi sull'offerta di una di quelle domande che vi dicevo prima è particolarmente rilevante per questo tipo di lavoratori quindi si tratta di servizi di business services si tratta di servizi di rete creazioni di rete servizi di networking si tratta di servizi di training si tratta di consulenza legale e così via quindi da un lato ci sono molte esperienze in termini di offerta di servizi dall'altro ci sono alcune esperienze in termini di lobbying nei confronti della politica cioè tentativo di influenzare la politica per indirizzarla in un maggiore sostegno a questo tipo di settori quindi dal punto di vista delle relazioni industriali si trova minore presenza della contrattazione collettiva ma maggiore presenza dei servizi e minore presenza del dialogo sociale settoriale maggiore presenza invece di attività di lobbying ho sottolineato settoriale perché in realtà ci sono anche altri meccanismi attraverso i quali gli attori delle relazioni industriali giocano un ruolo particolarmente rilevanti che sono intersettoriali in questo caso per esempio i rapporti tra sindacati e sindacati associazioni datoriali e governi nell'influenzare il modo in cui per esempio il lavoro freelance in generale è regolato o il lavoro atipico in generale è regolato è ovvio che è una ricaduta estremamente specifica e importante nei confronti della vulnerabilità in questi settori però non si tratta di un'azione settoriale quindi non si tratta di un'azione che viene fatta per influenzare le caratteristiche di lavoro di questi due specifici settori sempre dal punto di vista delle relazioni industriali un aspetto che è interessante che è emerso con forza e che è legato qui tengo insieme sia il punto 1 che il punto 2 alle trasformazioni in termini di digitalizzazione è che spesso questi attori che abbiamo trovato sono coinvolte in comunità quelle che possiamo chiamare un po' comunità professionali o reti informali che hanno una valenza professionale però quindi ci sono molte reti che spesso utilizzano piattaforme quindi utilizzano strumenti dati dall'innovazione tecnologica che da questo punto di vista influenza il modo in cui gli attori interagiscono per rappresentare i propri interessi quindi la digitalizzazione è rilevante non solo per l'organizzazione del lavoro ma anche per la rappresentanza degli interessi che sono network appunto informali non ci si iscrive a questi network non si ha una tessera non hanno uno statuto non sono vere e proprie associazioni ma sono network nel quale questi attori trovano alcuni di quei servizi di cui hanno bisogno trovano alcune delle informazioni per esempio sull'updating relativamente a determinati tipi di tecnologia di prodotti di cui hanno bisogno questi network talvolta sono tra virgolette istituzionalizzati perché si danno una forma proprio organizzativa quindi questi sono un po' i risultati che sono immersi guardando la struttura molto naturalmente molto sinteticamente alla organizzazione produttiva alle condizioni di lavoro e alle relazioni industriali se uno guarda questi risultati che implicazione ne trae dal punto di vista delle relazioni industriali ne trae due tipi di implicazioni il primo tipo di implicazione rimanda a una delle ipotesi originarie del progetto di ricerca che vi ho presentato prima e che vi ho detto che era un'ipotesi appunto sbagliata quella della governance di un settore poco regolato abbiamo detto relazioni industriali deboli dovrebbero portare in presenza di lavoratori vulnerabili quindi diciamo la formula lavoratori vulnerabili più relazioni industriali devoli dovrebbe portare a come risultato a un settore poco regolato e questo a sua volta dovrebbe far sì che ci insomma influenzare il fatto che i lavoratori sono fortemente individualizzati c'è un forte peso della regolazione di mercato e quindi la vulnerabilità aumenta in questa sorta in questa sorta di spirale questa era una delle ipotesi originarie originarie come vi dicevo presenza di basse relazioni industriali associata ad alta presenza di vulnerabilità che però vedremo che è poco valida perché non si tratta di un settore non regolato anzitutto per quanto riguarda le associazioni quindi le parti sociali sia datori di lavoro che organizzazioni dei lavoratori abbiamo detto che c'è un basso ruolo della contrattazione collettiva ma c'è un forte ruolo del dialogo sociale a livello nazionale e ci sono associazioni tradizionali e nuove organizzazioni che stanno facendo esperimenti interessanti quindi relazioni industriali tra virgolette deboli ma dove c'è molto movimento molto movimento molta sperimentazione naturalmente questo non assicura che ci sia una membership come appunto abbiamo sottolineato che sia una membership particolarmente elevata ma di cose interessanti se ne stanno facendo e stanno crescendo quindi regolazione associativa debole ma in movimento il ruolo del mercato è importante naturalmente c'è una fortissima competizione legata ai bassi costi di ingresso c'è una competizione tra freelance c'è una forte competizione tra imprese c'è una competizione tra lavoratori per avere una forma standard di occupazione c'è un forte peso in assenza della contrattazione collettiva della regolazione del lavoro a livello di impresa quindi diciamo ci sono una serie di elementi e ci sono imprese strutturate che giocano un ruolo molto importante che ci dicono che il mercato è importante quindi da un lato è vero che abbiamo associazioni deboli e mercato forte ma allo stesso tempo la ricerca ha messo in luce che c'è un ruolo estremamente rilevante per quanto riguarda lo Stato è un ruolo regolativo estremamente rilevante soprattutto a livello nazionale ma spesso anche a livello locale a livello delle singole città che noi abbiamo preso in considerazione dove lo Stato spesso i comuni i municipi locali fanno delle iniziative particolarmente interessanti lo Stato svolge una triplice funzione che diciamo ha un impatto estremamente rilevante sulla vulnerabilità di questi settori svolge un'azione regolativa quindi dice che cosa si può e non si può fare che forme di lavoro possono essere adottate oppure no svolge un'azione di protezione sociale quindi di welfare per tutelare i lavoratori di questo settore e svolge un'azione molto importante diciamo un po' meno importante in Italia ma molto importante negli altri due paesi soprattutto nel caso olandese dove i settori creativi sono uno dei top five dei primi cinque settori delle politiche industriali che sono state messe in campo negli ultimi anni quindi una forte attenzione dal punto di vista nove uno dei nove settori dove le politiche industriali hanno dato una forte spinta durante gli ultimi anni cosa che da noi invece ancora non viene fatto però come vedete ci sono tre tipi di azione dello Stato e questi tre tipi di azioni dello Stato soprattutto i primi due l'azione regolativa l'azione in termini di welfare hanno un impatto estremamente rilevante sull'azione e sulla vulnerabilità dei soggetti che operano in questi settori e questo fa sì che per esempio i freelance o alcuni tipi di contratti più atipici si sentano relativamente maggiormente precari e vulnerabili nel caso italiano rispetto a quanto avviene negli altri due casi che abbiamo preso in considerazione dove si percepiscono sempre come vulnerabili ma hanno una serie di garanzie e protezioni sociali molto più alte rispetto a quelle nel nostro caso italiano e questo in parte è importante dipende anche dall'azione dello Stato ultimo punto importante che ci dice che non si tratta di un settore non regolato dove l'unica forma di regolazione è quella del mercato è la regolazione di tipo comunitaria come vi dicevo è una regolazione che mostra come in molti di questi settori c'è una fortissima appartenenza dal punto di vista di identità professionale ci sono comunità professionali che giocano un ruolo rilevante nella regolazione del settore e spesso le reti legate a queste comunità professionali sono reti che giocano un ruolo estremamente rilevante per esempio aiutano in molti di questi casi in tutti e due i settori che abbiamo preso in considerazione in tutti e tre i paesi aiutano i lavoratori a trovare opportunità lavorative quindi diciamo anche in questo caso giocano un ruolo rilevante quindi in realtà anche se siamo in presenza di un settore dove c'è una regolazione associativa relativamente debole non si può dire che siamo in presenza di un settore dove manca la regolazione e c'è soltanto il mercato questo è il primo tipo di implicazione il secondo tipo di implicazione invece ha a che fare col fatto del perché le relazioni industriali tradizionali contradizionali ripeto soprattutto la contrattazione collettiva settoriale sono così deboli in questi settori in tre paesi dove c'è una presenza piuttosto forte delle relazioni industriali vi dicevo il caso della Danimarca è il caso dove contano di più ma se le comparate con gli altri settori anche in quel caso c'è una minore presenza e rilevanza della membership sindacale per esempio quali sono le ragioni e le implicazioni dal punto di vista del perché le relazioni industriali giocano un ruolo meno rilevante naturalmente anche su questo ci soffermeremo nelle due sezioni successive ma qui ve ne richiamo alcune che da un lato hanno a che fare con le caratteristiche dei lavoratori e da un lato hanno a che fare con le caratteristiche invece del tipo di lavoro anzitutto c'è una quota come abbiamo visto all'inizio non esclusivamente giovani ma c'è una quota particolarmente rilevante di lavoratori giovani in questi settori e questo si incrocia con una difficoltà della rappresentanza tradizionale per esempio nel caso italiano c'è una maggiore difficoltà da parte delle organizzazioni sindacali ad esempio di fare membership tra i lavoratori che sono più giovani quindi c'è una composizione di età che influenza l'interesse verso le organizzazioni di rappresentanza degli interessi anche quelle più innovative e quelle più tradizionali c'è una quota molto rilevante di lavoro atipico di varie forme come abbiamo visto di lavoro atipico che sono più difficili da rappresentare si stanno come vi dicevo facendo molte esperienze molte forme molte esperimentazioni innovative ma non c'è dubbio che rappresentare questo tipo di lavoratori sia per le organizzazioni sindacali o anche per le organizzazioni datoriali come dire una sfida estremamente rilevante poi spesso ci sono diciamo così confini incerti nell'identità dei lavoratori come vi dicevo spesso alcuni di questi lavoratori passano all'interno della propria carriera lavorativa ad essere lavoratori dipendenti ad essere freelance ad essere datori di lavoro perché creano la loro piccola start up a ritornare al ruolo di collaborazione quindi sono lavoratori che mutano spesso costantemente spesso pelle e quindi spesso anche interessi e anche in questo caso questo non vuol dire che è impossibile rappresentarli ma è sicuramente una sfida rilevante rispetto a un tipo di lavoratore che era quello diciamo più standard che lavorava sempre nello stesso tipo di settore sempre con la stessa tipo di posizione all'interno dell'impresa sempre con lo stesso interesse da rappresentare quindi interessi come dicevamo mutevoli e interessi che spesso sono più collegati alla dimensione dei servizi piuttosto che alla dimensione dei temi tradizionali che invece occupano l'arena della contrattazione collettiva come per esempio i diritti sindacali e così via quindi diciamo hanno interessi che non solo sono mobili come dicevamo prima ma che sono difficilmente più difficilmente trascurabili con forme di regolazione come quella della contrattazione collettiva e infatti i contenuti e il valore del lavoro per questi lavoratori per la dimensione anche che richiamavamo prima quello del portfolio dell'importanza del curriculum del portfolio dell'esperienza precedente sono dimensioni estremamente rilevanti i contenuti del lavoro contano e spesso contano più i contenuti delle condizioni diciamo così più hard spesso coperte dalla contrattazione collettiva come ad esempio i salari terzo ultimo punto importante sono interessi come dicevamo prima estremamente mobili estremamente mobili che cambiano costantemente che proprio perché cambiano costantemente naturalmente sono difficili da rappresentare perché un conto è rappresentare interessi stabili un conto è rappresentare interessi in movimento quindi ci sono una pluralità di dimensioni che rendono più difficile rappresentare il lavoro in questi settori rispetto a quanto avvenga in altri settori produttivi e per questo la rappresentanza del lavoro nelle industrie creative nei nostri due sottosettori ma dalle interviste che abbiamo fatto in realtà viene fuori che anche in altri settori incontrano il medesimo tipo di difficoltà per questo rappresentare il lavoro in questi settori è una sfida diciamo di confine per le organizzazioni di rappresentanza degli interessi sia datoriali che dei lavoratori che per le nuove organizzazioni di rappresentanza quelle che hanno più una connotazione professionale quindi come conclusioni che cosa molto molto brevemente per lasciare per lasciare spazio visto che sono andato oltre alla mia presentazione che cosa si può dire come conclusioni da questa lunga carrellata di risultati ed è il modo con cui vorrei aprire alla discussione successiva con gli attori che appunto sono parte di quei protagonisti spesso evocati in questa mia introduzione dei risultati generali e complessivi diciamo che per capire il rapporto tra rappresentanza degli interessi e vulnerabilità in questi settori è molto importante concentrarci al nostro modo di vedere su tre aspetti il primo è il fatto che gli interessi di questi lavoratori sono interessi che hanno una forma e una dinamicità che è diversa in parte dagli interessi dei lavoratori tradizionali che accomuna e questo è un aspetto molto importante però accomuna questi lavoratori con lavoratori che si trovano in condizioni analoghe in altri settori produttivi quindi hanno molto in comune i lavoratori freelance del settore dei grafici con altri lavoratori freelance in altri settori quindi primo punto importante è importante guardare alle specificità degli interessi di questo tipo di lavoratori secondo punto importante è importante guardare alle azioni innovative che le organizzazioni io dico tradizionali diciamo quelle presenti da più tempo quindi sindacate associazioni datoriali svolgono in questi settori azioni innovative proprio per rispondere a questi interessi diversi interessi molto particolari naturalmente non vuol dire che non hanno interessi tradizionali non è che i salari non contano il terzo punto importante invece ha a che fare con il ruolo dei nuovi attori quindi il ruolo di attori che emergono nell'arena della rappresentanza degli interessi che sono attori molto particolari giocano un ruolo molto interessante e possono dare insieme agli altri attori più tradizionali una maggiore copertura degli interessi dei lavoratori e su questo appunto adesso ci soffermiamo con il primo panel grazie molte grazie a te grazie a te grazie a te